Allora, l'associazione Onus, un dono per Valentino, nasce come un'associazione per cercare di dare sostegno in effetti a bambini nefropatici della regione Campania. E' soltanto negli ultimi 10-15 anni che si è sviluppata una struttura ospedaliera al Santo Bono diciamo in grado di rispondere alle esigenze di questo tipo di bambini che un tempo erano costretti per un'assistenza adeguata ad emigrare, soprattutto agli azioni di Genova. Ora è notorio come appunto la situazione amministrativa sanitaria regionale, sicuramente in un momento di grande crisi siamo una regione commissariata e questo praticamente crea una situazione di disagio, di carenza di risorse. Ora quindi ben venga naturalmente un'iniziativa del genere, di tipo appunto come quella di Scocca la Scintilla con un evento per sostenere appunto quelle che sono le esigenze di un'attività così particolare. In particolare il progetto che noi tendiamo a sviluppare, realizzare con il sostegno appunto di Scocca la Scintilla della CONSAI è quello di rinnovare completamente gli arredi e la struttura del reparto di nefrologia affinché questo di bambini, che sono dei bambini cronici, che fanno un percorso di nefropatia cronica, di alisi e trapianti abbiano un ambiente il più confortevole possibile, che riduca al massimo il disagio dell'ospedalizzazione e che gli ricrei un ambiente confortevole come quello che noi cerchiamo di dare ai nostri figli.